e questa è la cosa che ti riappaga di più Ciao Enzo, complimenti per il film Grazie E qualche commento a caldo? Beh, il pubblico ha reagito bene è piaciuto, siamo contenti il messaggio è arrivato e questa è la cosa che ti riappaga di più registriamente per la serata in sé di Fabio, di Taupecce quindi insomma è arrivato il messaggio questo messaggio di riscatto, di speranza di volontà a non arrendersi non racconto troppo della trama così almeno possono andare a vederselo poi quando uscire E come è stato lavorare con Fabio? Non è la prima volta è un rapporto iniziato con il precedente film di grande stimolo è facile andare d'accordo con lui siamo sulla stessa lunghezza d'onda crede nei progetti che abbiamo fatto nelle storie che raccontiamo in questo film l'avete anche visto come attore debutta anche come attore è stato bello stimolante ma proprio perché oltre al rapporto di amicizia c'è anche un rapporto sì, c'è un rapporto di fiducia e quindi tutte queste cose messe insieme lavoro, fiducia, amicizia fanno sì che poi è uscito fuori quello che è uscito fuori è la seconda volta è il secondo film che sposa in qualità di sponsor per un tavo pece sinergia costurale perfetto grazie mille complimenti ancora grazie a voi ciao